Il gol importante è una partita che consente alla Saga Medi di avvicinarsi notevolmente al primo posto? Sì, è stato un gol importante, abbiamo fatto un'ottima prestazione, sono contento dei gol perché è il primo gol quest'anno, spero di farne altri. Abbiamo fatto un'ottima prestazione e speriamo di continuare così, è la sconda la vittoria consecutiva, quindi ci dà fiducia. Arriviamo da qualche pareggio che ci andava storto, quindi ci è fatto bene questo vittorio. Il vostro limite maggiore era quello di non riuscire a conservare il vantaggio invece negli ultimi due domenici, che sia sensi che oggi siete riusciti a non deconcentrarvi a tenere la gioia. Sì, come ha detto prima Capeccia, con la partita con l'Igorna abbiamo fatto due gol e poi ci hanno rimontato, siamo tra virgolette maturati e quindi siamo riusciti a portare a casa la vittoria facendo ancora gol. Non ci siamo seduti, come abbiamo fatto con l'Igorna, abbiamo tirato fuori le palle, quindi li abbiamo portati a casa la vittoria. Ultima domanda, a chi dedichi questo primo gol con la maglia biancazzurendi? Assolutamente dalla mia ragazza. Ok, grazie mille.